In Italia quando si dice grandi opere si immagina subito un luna park di scandali e di corruzione, quando si dice velocità si immagina una sequenza infinita e dolorosa di incidenti e di morti sul lavoro, quando si dice grandi opere normalmente si prefigura un contrasto, un conflitto tra le popolazioni che devono ospitare queste grandi opere e il governo. Qui sulla Bari-Napoli abbiamo cercato di evitare il conflitto nel senso che se è una grande opera bisogna costruirla insieme alle comunità territoriali. Il lavoro di un decennio è stato quello di interloquire per esempio col territorio erpino, col territorio di Capitanata, per capire come si potesse rendere il tragitto quello più utile, più condiviso. Perché le grandi opere altrimenti sono una cosa che viene calata dall'alto sulla testa delle popolazioni. Primo. Secondo, io ho richiamato Ferrovie dello Stato e tutti gli attori al dovere di controllare la sicurezza dei cantieri, perché non è accettabile tanto più in epoca di scarsa tutela dei diritti dei lavoratori, non è possibile immaginare che gli incidenti debbano essere un dato fisiologico. Terza questione, la trasparenza non si ottiene con il buon cuore, la buona moralità del singolo individuo, del commissario. La trasparenza deve essere garantita attraverso l'esercizio del controllo sociale. Tutto deve essere online, tutto deve essere immediatamente conoscibile, in modo tale che ogni cittadino può controllare come vengono spesi i suoi soldi. Ecco, abbiamo cominciato bene questo lavoro, condividendo con le popolazioni, possiamo completarlo bene se con le popolazioni, nel rispetto della legalità dei diritti delle persone, andremo avanti. Grazie per la visione! Grazie a tutti!